L'omicidio del deputato Giacomo Matteotti rappresenta uno spartiacque nella storia italiana, un punto di non ritorno nella trasformazione del fascismo da movimento politico a regime. Matteotti viene ucciso il giorno dopo aver pronunciato un discorso parlamentare contro le violenze e i brogli delle elezioni dell'aprile di quell'anno e alla vigilia di un altro discorso in cui avrebbe rivelato uno scandalo finanziario. ...segue e questa è la ragione per cui Matteotti paga con la vita, il tentativo di portare con le idee una difesa della democrazia nel nostro paese ed egli fu il primo a esserne consapevole come ricorderete da una delle sue famose frasi quando disse in Parlamento ucciderete me ma l'idea che in me quella no non potrà essere uccisa.